e salve a tutti ragazzi benvenuti su un altro video di cortex gaming continuiamo la nostra nostra indagine su agatha christie di abc murders dunque ok cortez 20 per cento quindi completato proviamo un po giochiamo e vediamo un attimo dove eravamo rimasti perché non mi ricordo più a ok fuori da ciccio pasticcio dovevamo allora vediamo un po cosa era cosa dovevamo fare ok obiettivi vai dovevamo andare a scotland yard quindi noi ovviamente prendiamo la macchina che è pronta e andiamo a scotland yard please ok andiamo andiamo a scotland yard però ok ci ha portato in un batti staccato baleno london ok vediamo qui si può fare qualcosa non si può fare qualcosa ci diciamo ci vediamo ancora in forma japp o japp della lettera b ok andiamo salve ah japp ci aspettava ah no ok mi trovo ci aspettasse di fuori ooooh qui cosa si può fare niente dobbiamo solo infatti dobbiamo solo infatti andiamo le medaglie va ok si impegna molto nel suo lavoro infatti noi ci vediamo tabella delle medaglie ok ordine al merito japp è il trofeo del fratto quindi lui è molto rispettato perfetto qui c'è altre cose andiamo qua su allora prima facciamo qualche osservazione va ok osserviamo qualcosa cosa fai japp sembra sopra farla vediamo un attimo cosa guarda non ce lo fa guarda vediamo la faccia niente qui qui oh pile di documenti tazza di tè freddo e te l'hanno sganciato quindi non vuole essere rotto le scatole è molto preso no ok perfetto adesso ci possiamo parlare perché non possiamo fare buon giorno tutti i film d'acta i am afraid we have some bad news i have just received another letter signed abc the next crime will be on the 25th in bexilon c are you completely sure it's from the same person i have compared the two letters there is no doubt about it i suppose you think he's going to carry out his threats i feel so good god poirot bexit is very busy at this time of year and we have no idea who the next victim will be hmmm le donne anziane che hanno un negozio no il nome della prossima vita inizia per b è quello che abbiamo scoperto quindi noi ok ok cosa io devo far credere voi leggete eh che io non ci perdo nemmeno tempo non rinco dell'alfabeto eh sì bene e abbiamo avvisato anche l'ispettore Japp no appunto E andiamo a Bexil, 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 non cacchio eh, Bexil, ok, cavoletti di Bexil, non cavoletti di Bruxelles, e siamo a Bexil, veniamo un po' alla scena del crimine, ovviamente, altro omicidio. Ok, veniamo un po' ai nostri obiettivi, i nostri obiettivi sarebbero, parla con Jap un'altra volta, ok, andiamo a parlare con Jap, ah qui dobbiamo, come è stata uccisa la vittima, vediamo, eh no, dobbiamo scoprirla come è stata uccisa la vittima, ovviamente, quindi noi andiamo giù in spiaggiozza, e andiamo a parlare con Jap, oh, vieni qua, vieni, vai direttamente a parlare con Jap, e non se ne parla, vai, ok. Questa volta 20, 25, quindi non sono vecchiette. Questa volta 20.30 e 1.00, e abbiamo trovato un guide di abc sul corpo. Questa è bella? Come on, Poiré, è un po' più semplice, non c'è un po' alla scena. C'è un po' più semplice? C'è un po' più semplice? C'è un po' più semplice, non c'è un po' più semplice. Il corpo non è stato riuscito, puoi vedere per te stesso. C'è un po' più semplice? Non ancora, ma ho provato a parlare. Non ancora ancora, non ho ancora informato la presenza dell'abc in Andover. Non c'è un po' più semplice? Non per il momento. Non c'è un po' più semplice, non c'è un po' più semplice? In effetti, abbiamo chiesto di tutti che potrebbero aver incontrato una nuova moglie che si è abbastanza in descrizione la mattina per venire e noi, ma... E' ancora qui il intricato di quello di prima, ovviamente, no? E' un po' più semplice, Chief Inspector, e le notizie non si può aver spiegato ancora la stessa. Ho spero che sei certo, Hastings. E' tutto per casino, la notizia non si è diffusa in città. Hanno bloccato tutto. Ok, adesso noi andiamo a esaminare la scena del crimine. Andiamo a vedere questa scenetta del crimine. Forza. Andiamo, andiamo, andiamo. Ok. Povera donna. E' stata strangolata. Vediamo. E appunto, la corda dovrebbe essere per terra. Ok. Sarà quella dell'ovicinio, la solita guida ABC. C'è segnato qualcosa? Sempre dei treni, ovviamente. Ok. Il terzo. La chiave, di sicuro. La chiave è troppo piccola per essere una per una casa. E senza dubbio, è per una padlocka. Mmm. Poi, ne dobbiamo trovare sette. Ah, ok. Vediamo qua. Ah, una borsetta. C'è una borsetta. Strano. Ovviamente. Per fare il bagno, e di sicuro quella è la chiave della cabina. E... Poi... Qua. E questo, questo fenomeno, sempre da lì dietro lo aggredisce. E macca ancora un indizio, la testa. Ok, perfetto. Vediamo un po' se usa anche le mie, che sono un po'... Ok. Qui che dice? La vita non aveva più i suoi effetti personali. Qui che dice? Non si è di battuta. Allora, innanzitutto io direi che non si è di battuta, ce lo metto. Ok, poi... C'era una cintura di seta intrecciata. Aperta a Bexy, non ce ne frega. La vittima era una bella donna. La vittima ha dei segni sul collo. E direi di mettere la cintura... La cintura intrecciata. E' infatti così. Quindi è stata strangolata di dietro. Ma questo non ci voleva un fenomeno per capirla. Ok. 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 Ancora le nostre cellule grigie. Ok. Benissimo. Quali sono i punti comuni tra l'omicidio di Andover e quello di Bexy? Ok. Ok. La vittima ha dei segni sul collo. Sì. da Bexy. I due uccidi sono stati... Ok. Perfetto. Ma qual è qualche problema? Ok. Nuovo obiettivo. Identifica la vittima. Perfetto. Intanto c'è un granchietto che va a destra e a sinistra da tre ore. Ok. identifica la vittima. E io direi che con questo gameplay è tutto. E la vittima la identifichiamo nel prossimo gameplay. Ciao a tutti ragazzi con The Agatha Christie Abyssin Mooders. L'assassino delle guide. Che bello. Ciao ciao.